In questa Olimpiade caratterizzata, questa gara in linea dalla velocità, la media è di quasi 43 all'ora E Osolf che lancia lo sprint con Decker in seconda posizione, Casartelli è in terza posizione Siate veloci, ecco che parte Casartelli, è partito Casartelli e la regia è staccato sul gruppo E Casartelli è in testa, Casartelli è in testa, Casartelli medaglia d'oro, medaglia d'argento per l'olandese, medaglia di bronzo per il lituano Secondo medaglia d'oro per l'Italia, che avevamo detto, in fase di pronostico, primo un italiano, secondo un olandese, nella corsa punti